L'avorto è più di un problema. L'avorto è un omicidio. L'avorto senza mezze parole. Chi fa un avorto uccide. Ma il problema non è il problema teologico, che è questo semplice. Il problema è il problema pastorale. Come noi, Vescovi, gestiamo pastoralmente questo principio. E se noi vediamo la storia della Chiesa, vedremo che ogni volta che i Vescovi hanno gestito, non come pastori, un problema, si sono schierate sulla vita politica, sul problema politico.